Altra giornata quella di ieri con un aumento dei casi positivi al coronavirus in Abruzzo in linea con il trend del periodo. I test hanno riscontrato 75 nuovi contagi, il totale è di 1.703. Il giorno precedente erano stati 65 e l'intera scorsa settimana non ha visto aumenti esponenziali. Si è passati da un minimo di 35 il primo aprile al massimo di 75 casi registrato ieri. La curva, come dicono gli esperti, ha raggiunto il picco e si trova nella fase del plateau dopo la quale è attesa la discesa, che sarà in ogni caso lenta e non porterà ad una scomparsa di nuovi casi se non tra molte settimane. Altro dato che fa ben sperare è la diminuzione delle persone ricoverate, 4 in meno in terapia intensiva, 11 in totale. Si alleggerisce la pressione sulla rete ospedaliera abruzzese che dimostra di aver retto l'urto. In totale sono 347 pazienti ricoverati in terapia non intensiva, 89 in provincia di Teramo, 67 in terapia intensiva, 11 in provincia di Teramo, mentre gli altri 1.600 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, 326 in provincia di Teramo. Il numero dei morti è arrivato a quota 158, quello dei guariti a 125. È nella ASL di Teramo che ieri si è avuto il numero più alto di positivi, 34 su 75, per un totale che ha raggiunto 472 casi. 12 contagi in più si registrano nella città capoluogo, gran parte dei quali derivanti dall'aumento del numero dei tamponi al personale sanitario e ai pazienti ricoverati all'ospedale Mazzini. A dirlo con un post su Facebook il sindaco Gian Guido Dalberto che ha mandato l'abbraccio mio e di tutta la nostra comunità come auspicio per una pronta guarigione al suo predecessore Maurizio Brucchi. Dalberto, nel ribadire la vicinanza ai medici e ai sanitari del 118 che lavorano accettando in prima linea sul campo e sul territorio il rischio del contagio, ha voluto ricordare tre Teramani morti negli ultimi giorni. L'ultimo, nella notte tra sabato e domenica, Sabatino Calandrini, anima della storica pasticceria Gran Sasso di Via Savini, punto di riferimento per generazioni di Teramani, venuto a mancare all'età di 81 anni. Altre vittime si registrano a Penna Sant'Andrea, un uomo originario di Basciano, Nereto e Silvi, tre i morti finora, infine tre casi positivi di Atri, come da report del sindaco Pier Giorgio Ferretti.